Al centro di Civita Campomarano, su un masso di pietra renaria, si erge il castello Angioino, probabilmente edificato intorno al XIV secolo. Monumento nazionale dal 1979 rappresenta un vero e proprio gioiello di proprietà del Ministero dei Beni Culturali e quindi patrimonio architettonico e culturale italiano. Ma è proprio con la soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici del Molise che nasce la querelle con l'amministrazione comunale del paese. Oltre alle questioni oramai croniche inerente l'utilizzo e la fruizione del castello che puntualmente anche quando si trattano di manifestazioni prevalentemente culturali qualora avanzate dall'amministrazione comunale vengono boicottate al punto che la stessa soprintendenza non dà nemmeno più il diniego, semplicemente si attiene a non rispondere. E poi devo vedere che queste stesse manifestazioni, ed è giusto che sia così, però le si permette di svolgere solo se vengono proposte da associazioni e da altri enti le si può fare, rimango letteralmente allibito. Però il culmine e l'apice credo si sia raggiunto nella giornata di ieri, allorquando in occasione della conferenza stampa per l'iniziativa Castelli d'Autore che si svolgerà nella comunità di Civita Campomarano dal 5 al 7 luglio, gli organizzatori hanno, insieme all'artista, hanno presentato la manifestazione. La stessa soprintendenza, nella fattispecie una persona che ha un nome e cognome, ha letteralmente imposto una conferenza stampa solamente ad una condizione, che non venisse e che non fosse invitato il sindaco di Civita Campomarano. Ovviamente non lo considero un fatto personale, ma lo considero un fatto istituzionale, perché un sindaco rappresenta una comunità, un territorio e credo che ieri si sia perpetrato un oltraggio e un'autentica violenza al territorio che rappresento. Recentemente nel castello sono stati realizzati, dal Ministero per i beni e le attività culturali, radicali lavori di consolidamento e restauro che hanno riportato il monumento al suo antico splendore. Unica nota dolente, l'impossibilità da parte del Comune di Civita Campomarano di disporre della storica struttura per eventi di carattere culturale, senza il nulla osta della soprintendenza. Noi stiamo portando avanti, nei limiti delle risorse e delle nostre possibilità, un'azione di programmazione che verte essenzialmente intorno alla valorizzazione delle risorse che ci offre il territorio. E credo che ovviamente i beni culturali e soprattutto il castellangioino rappresentino un assoluto fiorallocchiello e quindi sarebbe fondamentale poterne usufruire, ma non, ripeto, in un'ottica di polemica, ma in un'ottica che credo venga sancito ampiamente dalle normative e dalle leggi dello Stato. E credo che purtroppo, quotidianamente, la testimonianza che ho è che lo Stato di democrazia e lo Stato che dovrebbe vigilare intorno ai beni culturali e promuoverlo, molto frequentemente ben fa che intraprende altre azioni piuttosto che il compito istituzionale a cui è demandato. Dunque la conseguenza di tale di Atriba finisce per penalizzare non solo i cittadini del piccolo centro in provincia di Campobasso, ma anche i turisti provenienti da fuori regione. Un danno ingente per la comunità e l'intero Molise.